Salve, allora facciamo il tutorial di Perfect di Ed Sheeran. Gli accordi sono pochissimi. Il Sol, il Mi, il Do e il R. Stop! Le plettrate, tutte corte sulle corde più gravi, quelle che fanno i suoni più bassi che sono metalliche, queste qua, con un plettro, capo tasto al primo tasto, però si può anche mettere al secondo, il primo tasto è per farlo alla tonalità originale. Ecco, il ritmo, guardate, tutto in giù, tre, quattro, uno, due, tre, quattro. Il ritmo, l'effetto completo. Re, qua, Sol, Mi, Do, Re, vai al Sol, vai al Mi, vai al Do, vai al Re. Ecco, questo è il giro armonico delle strofe. Per il ritornello, Bi, Bi, A, Do, Sol, Re, Mi, Do, Sol, Re, Mi, Do, Sol, Re, Mi, Do, Mi, Do, Mi, Do, Re. Ecco, quindi tutti accordi, diciamo, di durata due. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, eccetera, eccetera, eccetera. Quel passaggio famoso, in quel punto io non faccio gli accordi, faccio dei suoni al basso, che è Sol, quindi sesta corda, terzo tasto, poi Fa diesis, quindi sempre sesta corda, la sesta corda è quella che fa il suono più grave, quella metallica, sesta corda, secondo tasto, poi sempre sesta corda a vuoto, poi Re, quindi quarta corda a vuoto, e poi andiamo sulla quinta corda, terzo tasto, e poi si finisce in Re, oppure in alternativa, quindi c'è anche la versione arpeggiata. Ok, mano destra, mano nuda, sempre indice sempre terza corda, medio sempre seconda corda, annulare sempre prima. Il pollice gironzola sulle corde più basse degli accordi, il Sol, la sesta, il Mi la sesta, il Do sulla quinta e Re sulla quarta. Anche nella versione precedente, quando si fanno quelle plettrate brevi, il Re si cerca di acchiappare per lo meno la quarta, la terza e la seconda, solo queste, perché tutte plettrate brevi, ecco, così viene il ritmo bene, quindi in quel passaggio famoso, nella versione arpeggiata si può fare... E questo è quanto.